Gusto il Parco, seconda edizione. Sì, splendida iniziativa che riscuota anche quest'anno molto successo. Ringraziamo per la giornata meravigliosa. Arqua offre la cornice per il street food, cioè un'idea nuova di gustare i prodotti del territorio passeggiando per la città di Arqua. Un momento veramente unico per poter scoprire questo splendido borgo medievale e assaggiare i nostri prodotti del territorio che vengono reinterpretati secondo la tradizione da ristoratori del territorio appunto. Gusto il Parco 2010 sta crescendo. Sì, è una giornata molto importante questa ad Arqua Petrarca. Sta crescendo perché è la seconda edizione e quest'anno è molto più ricca rispetto alle proposte fatte lo scorso anno. Abbiamo finalmente tanti ristoratori di Arqua Petrarca che sono usciti per far conoscere i loro piatti tradizionali. Abbiamo tante aziende agricole del territorio uganeo e abbiamo anche gli apicoltori della provincia di Padova che fanno anche una prova di smelatura per il pubblico e oltre anche una degustazione guidata di alcune aziende vitivinicole che hanno messo a disposizione i loro vini. Il ruolo dell'assessorato all'agricoltura del parco in questa manifestazione? Un ruolo molto importante perché contribuisce anche finanziariamente a questa manifestazione. Ma è importante perché l'ha ideata lo scorso anno e la sta portando avanti con tanta efficienza assieme anche al settore ambientale, educazione ambientale del parco e anche con facilità direi perché si collaborano anche con altre associazioni del territorio che stanno dimostrando la propria efficienza ed efficacia per quanto riguarda gli interventi che si stanno attuando oggi. Luca Calegaro, sindaco di Arqua Petrarca, oggi ospite di Gusto del Parco, la seconda edizione. Cosa ne pensa della collaborazione con il parco? La collaborazione con il parco è questa, è molto importante e spero sia sempre di più. La collaborazione con il parco lo dimostra questa manifestazione che sta riuscendo perfettamente, una manifestazione che ha visto, e qui ne sono anche orgoglioso, ha visto i ristoratori di Arqua partecipare in massa e quindi è una collaborazione che nasce per valorizzare i prodotti dei colli, e le eccellenze dei colli e chi non può presentare queste eccellenze se non proprio i ristoratori e quindi come amministrazione io penso non sia tanto il compito di presentare Arqua, che Arqua ormai è conosciuta, ma quella di far conoscere i nostri prodotti, i prodotti fatti dai nostri ristoratori di Arqua e quindi è una collaborazione che nasce spontanea e che spero migliore negli anni e ancora di più. Grazie.